Si avvicina il capodanno che per moltissimi cani significa il periodo più brutto dell'anno. Molti cani vivono una condizione di stress costante a causa dei botti, possono rifiutarsi di uscire o addirittura avere dei malori anche a casa nonostante si trovino nelle mura domestiche. Ma questo problema è lavorabile? Cioè si può migliorare la situazione o addirittura risolverla? Se il cane è effettivamente molto sensibile ai rumori forti, in particolare ai botti, raggiungere proprio una situazione di massima tranquillità durante la notte di capodanno non sarà quasi mai possibile. Però migliorare un pochino la situazione in modo che il cane la possa affrontare in una maniera un pochino più tranquilla, questo sì, ci si può lavorare. Nella maggior parte dei casi la cosa migliore che possiamo fare è lavorare durante l'anno per diminuire la sensibilità del cane rispetto ai rumori forti. Andiamo in poche parole ad aumentare il range della tolleranza del nostro cane nei confronti dei rumori forti. Questo non dobbiamo farlo in una maniera improvvisata, possiamo andare in campo aiutati da un professionista e di solito il lavoro sarà quello di esporre con estrema gradualità il cane a questo tipo di suoni. Andando man mano che la risposta del cane diventa sempre inferiore ad aumentare l'intensità del suono a cui andiamo ad esporlo. Non è però un lavoro semplice, serve molta sensibilità e capire qual è il livello di stress a cui possiamo sottoporre il cane. Per questo è fondamentale fare questo tipo di lavori di abituazione a fianco di un professionista. Perché però ho detto che quasi mai riusciamo ad ottenere una completa serenità da parte del cane nella notte di capodanno? Perché per quanto noi possiamo lavorare ad aumentare la tolleranza del cane nei confronti dei rumori difficilmente lavorando in campo, lavorando a scenario riusciremo a riproporre esattamente quello che abbiamo la notte di capodanno. Ovvero un bombardamento totale che dura un sacco di tempo e che va a toccare anche gli altri sensi del cane. Pensiamo ad esempio al fortissimo odore di polvere da sparo che si sente nelle nostre strade, soprattutto in città. Quindi quella ai rumori forti e ai botti è una sensibilità del cane che sicuramente può essere lavorata e si può migliorare la situazione. Già passare da un cane che ha enormi difficoltà ad affrontare questa notte a un cane che riesce ad affrontarle in una maniera un pochino più serena già è un grandissimo risultato. Se il video ti è piaciuto ovviamente condividilo e lascia un cuore. Inoltre in biografia trovi tutti i miei altri canali.